Cismon del Grappa, ieri sera il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dal 118 per tre persone bloccate in fondo a una valle. Erano partiti dai prati della Magnola per scendere verso Cismon, anziché seguire il sentiero 29, hanno iniziato a percorrere la Val Nassa con corde e imbraghi. Dopo aver superato alcuni piccoli tratti di parete verticale affiancando il corso d'acqua nella gola, sono arrivati sopra un salto di roccia ad un centinaio di metri e lì si sono bloccati, non potendo proseguire né risalire. Grazie all'applicazione in dotazione al soccorso alpino, inviando un messaggio al loro smartphone con un apposito link, trovandosi in un luogo coperto dalla telefonia mobile, è stato possibile risalire a precise coordinate GPS, il punto in cui si trovavano e recuperarli tutti illesi. L'offerta della Popolare di Vicenza si è chiusa oggi a luna in base alle prime indicazioni al fondo Atlante, andrà poco più del 90% del capitale della banca. Il restante è stato sottoscritto dai soci della banca stessa che hanno seguito l'aumento, oltre 5.000 azionisti pari al 2,5% del capitale, mentre gli investitori istituzionali circa il 6,5%. Adesso il quesito passa alla Borsa italiana che lunedì dovrebbe esprimersi sull'ammissione alla quotazione. Il fondo Atlante dovrà versare 1,35 miliardi per sostenere l'aumento di capitale della Popolare di Vicenza. Stasera in Consiglio Comunale a Tezze si deve approvare il piano annuale triennale delle opere pubbliche, tra quelle programmate per l'anno in corso, la sistemazione degli impianti sportivi di Stroppari e della palestra per un importo di 500.000 euro. 100.000 euro per interventi di bonifica e di adeguamento della pubblica illuminazione, più di 2 milioni di euro saranno destinati al primo stralcio operativo dell'intervento di bonifica dell'area dell'ex Galvanica Tricom di Via Trecase. Per il 2017 è prevista la realizzazione di quattro opere pubbliche per un importo di 4.700.000 euro. Altri 300.000 euro serviranno per la pista ciclabile di collegamento Tezze-Granella, 4 milioni per costruire il nuovo polo scolastico. La strada delle Gallerie del Pasubio potrebbe rientrare nel patrimonio dell'umanità. La proposta sta prendendo piede tra Cai Cittadino, Comune di Schio e Unione Montana per celebrare il centenario dell'imponente opera bellica, divenuta uno dei sentieri escursionistici più amati d'Italia ed Europa, a cui l'anno prossimo sarà dedicata una grande mostra a Palazzo Fogazzaro. Le gallerie sarebbero l'unico sito direttamente ricollegabile alla storia della Grande Guerra, di cui si sta celebrando a livello mondiale il centenario.